Confermata la presenza del Presidente della Regione Rosario Crocetta insieme ai vertici del Consorzio Autostrade Siciliane, alla Deputazione Regionale e Nazionale Messinese, alle autorità istituzionali e ai sindaci dei comuni del territorio, alla riapertura della Galleria Tindari sulla 20 Palermo Messina. Da domani si tornerà dunque a transitare dopo quasi 5 anni di chiusura a seguito del provvedimento di sequestro disposto dalla Procura di Patti e l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento iniziati nel luglio 2015. Lo scorso 22 luglio era stata riaperta la Galleria Capodorlando, sempre sulla carreggiata in direzione Messina, chiusa nel 2011 contestualmente a quella di Tindari e interessata da analoghi lavori. E' stato fatto un grande lavoro nel rispetto dei tempi contrattuali, afferma il Presidente del Cast, Rosario Faraci. In entrambe le gallerie gli interventi sono stati rivolti al consolidamento delle pareti e delle calotte, nonché alla riqualificazione e all'adeguamento di tutti gli impianti tecnologici, ventilazione, illuminazione, antincendio, gestione automatizzata delle gallerie e viabilità interna con impianti di ultima generazione. I lavori si sposteranno adesso nelle gallerie Tindari e Capodorlando sulla carreggiata a lato mare nel senso di marcia verso Palermo, che in questi cinque anni hanno ospitato il transito a doppio senso. Per consentire il trasferimento del cantiere, dalle 21 di questa sera sino alle 7 di domattina sarà chiusa la tratta autostradale tra Patti e Falcone, ma solo per gli utenti che viaggiano in direzione Messina, mentre per chi si sposta verso Palermo il transito sarà regolare. Alla cerimonia di riapertura della galleria Tindari domattina sarà presente anche il Vescovo di Patti, Monsignor Ignazio Zambito, che impartirà la solenne benedizione.